Ne globuli, ne rossi, ne bianchi. Eminenza, cosa le viene in mente? Beh, mi viene in mente Napoli, che è tutta azzurra. E allora questo azzurro, che poi tra l'altro, diciamolo, è anche il colore della nazionale. Per cui Napoli, diciamo, rappresenta quella magnificenza, rappresenta quella eccellenza che ha sempre contraddistinto la nostra storia. E che oggi, piano piano, si sta sviluppando. Diciamo che il colore azzurro non solo riempie Napoli, ma per esempio quando sono andato a trovare la squadra, sono in montagna nel ritiro. Io ho visto questo paesino del Trentino, lì i trentini sono tutti un po' fridolillo, no? Bene, avevano trapezzato di colore azzurro tutta la cittadina, tutta la cittadina. Allora io credo che questa, che è un po' la nostra bandiera, sia segno anche, l'azzurro, di quella speranza che dobbiamo infondere continuamente a Napoli, soprattutto attraverso lo sport, che diventa uno strumento privilegiato di crescita, di motorità umana, sociale e religiosa. E se le dico Samuele Ciambrillo, allora cosa mi dice? Che è un grande amico, è una persona straordinaria, che stimo enormemente e al quale mando un grande abbraccio. Grazie a tutti.